ciao e bentornato innanzitutto con quali propositi ritrovi questa realtà ti ringrazio per il bentornato torno qua con moltissimo entusiasmo appena ho saputo della possibilità di tornare diciamo sono stato contentissimo e non vedevo l'ora di essere qui siccome conosco i ragazzi conosco l'ambiente sono stato molto bene quindi sono felicissimo di essere tornato sono a disposizione dello staff della società dei miei compagni e vengo qua per per aiutarli a raggiungere i nostri obiettivi da quando sei andato via sono successe tante cose qui al sutiro l'hai seguita indirettamente sì sì ho sempre seguito il sutirol anche perché è una società che mi ha dato modo di crescere penso che quello che sia successo negli anni sia sia il giusto riconoscimento per una società così prestigiosa e così importante quindi mi auguro di poter continuare a dare soddisfazione ai tifosi alla piazza e alla società tra la tua prima volta e questa c'è stata un percorso di crescita importante personalmente per te sì 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 ho avuto due annate importanti che mi hanno fatto crescere che mi hanno dato più esperienza quindi vengo qua da giocatore diverso che sono cresciuto rispetto a quando sono partito e spero di portare questa mia esperienza questo mio bagaglio che mi ha portato con me in questi due anni ad aiutare il sutirol questa categoria l'hai conosciuta l'anno scorso è bella tosta bella impegnativa sì penso che tutti conosciamo questa categoria io adesso l'ho fatto per due anni è una categoria che bisogna lottare in ogni partita contro chiunque puoi giocartela con tutte non ci sono favoriti e quindi conosciamo bene questo campionato siamo pronti ad affrontarlo e vedremo come va il proseguo del campionato ma siamo sicuri che daremo il massimo ti senti di fare un saluto particolare ai tifosi che ritrovi sì sono sono molto contento anche perché ci avevano supportato parecchio nell'anno in cui ero stato io mi ricordo che le tifoserie non potevano ancora entrare però c'erano stati vicini era stato un anno importante saluti tifosi e vi aspetto allo stadio